JIN! Stando al futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. If we don't act now, Jin Kazama, the light of the red star may never return. It started? All the pieces in this. It won't be long before... You're stupid, right? It's supposed to come from here. C'è chi è venuto? Zafina! Zin! Show you Eva, come è stato fatto? I'll show you a way, a path, to finally purge you of evil. You will be a shining star of hope for everyone. Zafina-san, shikare shite! Tu as mentionné Yakushima tout à l'heure? Si tu tirons, je veux faire préparer le jet. Tu devi vivere. Per il mondo. Per coloro che ami. Claudio? Ililaliusi? C'est parti. Sì, 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 Sì! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti